ciao questo è un nuovo video che il solito che faccio il suo film e che riesco a recuperare magari nel guardare che mi sono andato a vedere Dead Zone che è un film del 2022 che non sono riuscito a guardarmelo che è il solito magari film che magari può prendere come genere può prendere anche azione un po di un po di fantascienza che che ho visto che magari che non ero riuscito magari andarmelo a guardare quando è riuscito al cinema ma adesso che ho avuto magari l'opportunità me lo sono visto che anche se è un film che dura un'ora e 25 quasi però l'ho voluto tipo vedere che parla più che altro magari di questa squadra di soldati che che per fermare magari il collasso e il collasso dell'umanità scende magari una una città avellinata dalle maria dalle radiazioni e che come si dice che segue l'ultima magari missione invisibile invisibile magari usando armature armature e armi e di alta ad alta magari tecnologia che magari come genere chi piace magari questo oltre a essere magari un po che è anche un po fatta scienza così azione magari li può magari anche piacere come film anche se magari come regista e questo è anche brax tan però amarei come mare come film amarei nel complesso morai come aggirato così essendo morai un po di essendo ci maria un po di maria come film è un po di fantascienza magari non è insolito proprio al cento per cento però magari come cosa come film e maria nel complesso maria come film amore ci può ci pomerà e anche anche stare che ho visto che maria anche dalle recensioni che ho visto maria del film che molto che c'era tra gente maria ho visto più che altro maria recensioni maria anche positivi su questo film che non nel complesso non è così ma è brutto come maria anche girato così le scene maria del film magari come al solito maria lascio maria in descrizione maria il videotrail e anche maria il cast degli attori che hanno partecipato che ho visto maria e anche maria e certi maria certi attori li ho già approvato maria a vederli maria in altri in altri film anche se non sono così maria certi maria non sono così tanto maria e conosciuti come a maria come attore poi nel complesso maria come film ci poterà maria anche stare anche se maria come film e maria 2 1 e 25 però come si dice maria come film anche se non è proprio come ho detto prima al 100 per cento maria sento maria un po che c'è un po di fantascienza ma lei ci può ci può maria anche anche stare e niente che maria che la sceneggia come sceneggiatura di questo film e di questo michael lurie e michael club e niente quello che magari come si dice quello che morrei potevo mai anche dire su questo film e morrei l'ho già detta che magari quello si riesco maria e lascio sempre maria qualche informazione sempre sotto maria sotto maria in descrizione che maria chi può piacere e piacere maria questo maria i film anche solo sono maria i soliti proprio proprio al cento per cento però che sono maria un po messi maria come film lì maria come film può anche andare e niente quello che morrei potevo dire maria ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente morrei più avanti con i miei soliti video che porto morrei sul sul mio canale e niente per adesso morrei vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao